Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto in compagnia di Maria Briglio Nigro, candidata alle prossime elezioni comunali nella lista a testa alta per Cleto, alla quale chiediamo la motivazione per la quale ha scelto di candidarsi e poi ovviamente quelle che sono le motivazioni della lista stessa che vogliono a testa alta per Cleto vedere un cambiamento, quello che sarà la futura gestione, quello che vincessero. Salve a tutti, io faccio parte della lista a testa alta per Cleto con candidata al sindaco Armando Bossio, diciamo che faccio parte di una continuità politica perché a testa alta per Cleto già si è presentata nella precedente campagna elettorale, 5 anni fa, quindi lo stesso gruppo continua ad andare avanti e a presentarsi nuovamente per queste nuove elezioni comunali e io faccio parte di questa lista perché è una nuova lista innovativa, piena di entusiasmo e comunque voglia di fare nuove cose per questo Paese, è importante. Il punto forte della nostra lista è quello di rinnovamento, quindi quello che noi vogliamo per il nostro Paese è un cambiamento radicale, quindi dedicarci completamente al rinnovamento del Paese, al rinnovamento del di Cleto e mettere in risalto tutto quello che c'è di bello in questo Paese e quindi speriamo di riuscire a sviluppare i nostri programmi. Grazie.